ragazzi ho aggiunto questo pezzo perché mi sono purtroppo accorto che nel video si era interrotto e io continuavo a registrare pensavo di registrare invece in realtà no si interrompeva lì e me ne sono accorto adesso riguardandolo spero che semmai lo metto come seconda parte perché purtroppo è andata così quando me ne sono accorto ormai l'avevo caricato e diciamo che inizialmente ho fatto vedere i tre componenti Antares, Beraglius e Gamper suddivisi poi li ho uniti, esce fuori il Zaltanius e ho fatto vedere tutti i componenti tutto purtroppo è andata così ragazzi che dovevo rivederlo ma stavo uscendo l'ho caricato uguale e vabbè allora niente l'unica cosa che mi sono dimenticato in Antares è che le braccia si possono allungare invece le ho lasciate diciamo rientrate, sono un po' più lunghe ecco di quello che vedete nella prima parte del video poi adesso ho rimesso a posto tutto comunque se sono nel Daltanius completo ci sono i vari pugni da cambiare le varie armi ma quelle ve lo fate vedere nella prima parte del video cosa vi devo dire che non vi ho detto di là scusatemi davvero la prossima volta cerco di riguardarlo meglio prima di caricarlo così lo metto completo allora il Daltanius è alto sui quasi 26 cm è una bella bestia è bello pesante e non lo peso perché tanto so che ci sono altri video di altre persone che l'hanno già pesato quindi non ha importanza comunque vi dico è bello pesante davanti è stupendo snodato l'unico difetto che ha appunto sono i piedi e le gambe distaccate come potete vedere di qua sono collegate solo da questo giunto qua giallo però bello è bello non c'è niente da dire certo visto dal davanti è stupendo visto dal dietro cambia un po' purtroppo come diciamo il giocattolo di quando eravamo ragazzini ci sono le zampe del leone qua si tirano indietro lì mi sembra che le tiravi su ma rimanevano qua certo nel cartone di matto fanno vedere che rientrano qua no potevano ecco fare forse un sistema per staccarle però effettivamente da un lato sarebbe stata una cosa bella da vedere visivamente bella quando era finito dall'altra troppe cose da staccare non mi piacciono perché perde quella cosa di trasformazione ecco secondo me quando un modello è così costoso non si può sganciare smontare diventano troppo non mi piace ecco scusate le parole ma non mi piace purtroppo quindi c'è questo ho visto che adesso non si trovano più una volta c'erano qua dei pezzi da aggiungere per coprire gialla per coprire le gambe del leone però non mi piacevano venivano fuori questa specie di scatoletta che si aggiungeva qua c'erano fatte con una stampante 3d c'era dei ragazzi che le vendevano su ebay da aggiungere però sembrava che c'era la gobba lui cioè no non mi piace no piuttosto così il modello nasce così e lo lascio così niente ragazzi non ho tanto da aggiungere perché purtroppo ho detto quasi tutto nella prima parte del video questo lo mi dispiace pensavo che era venuto tutto me ne sono accorto adesso riguardandolo appena sono rientrato che manca la parte dopo ho premuto male la la rec della telecamera e non non ha registrato niente vabbè uguale lo aggiungo come seconda parte ragazzi niente non so cos'altro dire adesso poi passerò altri robot spero che vi sia piaciuto il video se potete lasciato un mi piace seguitemi e arriveranno tanti altri video oltre che di lego ma anche di robot che ho già e se nel futuro ne compro altri così almeno venite avvisati ciao ragazzi e scusate ancora alla prossima